Hai visto la partita da fuori praticamente dalla tribuna per causa di infortunio, che tipo di vittoria è stata quella di domenica? Intanto una vittoria comunque meritata. Sì, sicuramente è stata una vittoria meritata, è stata una vittoria importante sia dal punto di vista della classifica che dal punto di vista del morale perché venivamo da una partita persa a Città Sant'Angelo dove chi ha visto la partita può dire che non meritavamo di perdere però il calcio è fatto così e quindi è stata molto importante per il morale, per farci lavorare con entusiasmo e fiducia per i prossimi impegni. Quali sono le condizioni di Andrea Censori quando lo rivedremo in campo? Ad oggi ancora non c'è una tempistica esatta, io spero di tornare al più presto perché quando uno è fuori la cosa che gli manca di più è il campo, l'allenamento e sto facendo di tutto per tornare il prima possibile. Domenica si va in campo a Fossa Cesia, una squadra che viene da una vittoria esterna, soprattutto una squadra difficile da affrontare. Ma il Fossa Cesia come dimostra il campionato dello scorso anno la salvezza la trova in casa tant'è che l'anno scorso in casa non so se hanno perso partite ma se ne hanno perse, ne hanno perse ben poche e per noi sarà un banco di prova importante perché dobbiamo iniziare a sbloccarci anche in trasferta visto che al momento abbiamo solo un punto all'attivo.